Noi siamo partiti a fine marzo dell'anno scorso nello studio del direttore Compagnoni con un tavolo di lavoro e avevamo semplicemente un elenco dei processi con il numero dei faldoni e poi i faldoni digitalizzati, null'altro. E quindi si è detto da che cosa partiamo? Partiamo innanzitutto facendo un censimento reale del materiale che è presente all'interno dell'archivio e quindi si è deciso insieme di creare una scheda che potesse servire non solo a noi per lavorare e riordinare le carte e controllare che ci fosse tutto, ma che poi potesse diventare uno strumento utile per chi in futuro vorrà consultare questo tipo di carte. La scheda che è stata fatta per tutti i processi, quindi per ora ci sono delle schede ovviamente, sono tutte in bozza di lavoro. Questa delle carte di piazza Fontana versate dalla procura è quella più definitiva, anche se poi vi farò vedere mancano ancora un paio di campi da sistemare. Però è stata fatta la scheda di tutti i processi, quindi già per ora sappiamo che cosa c'è, la consistenza totale, ad esempio il Banco Ambrosiano si pensava fosse un processo unico, ma in realtà sono tre processi all'interno di quello che era considerato il Banco Ambrosiano, o il processo Bruno Caccia, che sono in realtà due, e la presenza del materiale audio e video, perché questo può diventare fondamentale per i ricercatori. I ricercatori sanno che magari in un'udienza un silenzio, un tentennamento può essere fondamentale. E quindi siamo andati a ricercare anche la presenza di materiale audio e video, e il direttore Compagnoni e il dottor Giovanni Liva hanno già chiesto che questi vengano in futuro restaurati, perché sono nastri magnetici e quindi si deteriorano, si rischiano di cancellarsi. Quindi l'idea è quella di avere una complessità della visione delle carte. Questa è la scheda che è stata messa in piedi dal gruppo di lavoro, con la presenza dell'evento, quindi l'evento che ha poi portato al processo, attenzione a questo processo, perché questa è la scheda, è l'inventario delle carte versate dalla procura sul procedimento ultimo di Milano. Poi all'interno c'è anche del materiale relativo a Catanzario e alle inchieste precedenti, ma questo è il materiale relativo all'ultima inchiesta. Come vedete ci sono gli imputati, gli estremi cronologici del procedimento, la consistenza, e qui già si è rappresentato la prima difficoltà. Come vedete ci sono 176 buste. Alla prima indicazione erano 189. Perché? Perché all'interno era stato versato, oltre al materiale relativo a Piazza Fontana della Procura di Pradella, anche materiale relativo all'attentato alla questura. Quindi un altro processo, un altro procedimento. Da qui questi faldoni sono stati già inventariati e verranno in futuro inseriti all'interno di quello che è il procedimento dell'attentato alla questura. Il soggetto produttore, la Procura di Milano, il soggetto conservatore, l'Archivio di Stato di Milano, e le segnature. Cioè quei numeri che diventano fondamentali all'interno di un processo per capire innanzitutto se le carte appartengono realmente a quel processo. Perché i faldoni hanno tutti, o la maggior parte, queste segnature scritte sul dorso, ma anche all'interno delle carte hanno queste segnature. Il registro generale della notizia di reato, 60-71-95, e il registro generale, 40-41-99. E poi, quello che è le serie finale dopo il riordino. Insieme, dopo un consulto con il superintendente del dottor Savoia, che oggi non c'è, si è arrivati ad una conclusione finale, cioè a dividere, a tenere separati, la serie degli atti che Pradella e Meroni, i due PM, avevano versato e già numerato da 1 a 120. Sono carte abbastanza ordinate, in realtà, nel senso che sono già divise quasi per argomento. Nel senso che all'interno della serie si può intuire la prima parte legata ai fascicoli personali, la seconda legata agli interrogatori, i brogliacci, gli atti relativi a Catanzaro. Una seconda, e queste sono state tutti già scansate. Poi entrerò nel merito di quello che c'è all'interno dei faldoni. Una serie di udienze dibattimentali, numerata da 1 a 12, che non è stata scansita anche per la difficile condizione nella quale si trova il materiale. Il materiale ha subito danni da acqua, l'80% del materiale di Piazza Fontana della Procura ha subito danni da acqua, e circa 17 faldoni hanno delle muffe evidenti sul dorso della documentazione e all'interno. Quindi andrebbero sanificate prima di essere scansite, perché queste non sono ancora state scansite. la serie atti Cassazione, che non è stata ancora scansita, la serie copie atti allegati alla misura cautelare, numerata da 1 a 6, e la serie atti individuati successivamente. Questi erano, facevano parte di quei faldoni da 140 a 175, da 135 a 175, che non erano numerati. Erano semplicemente, avevano un nome sulla costa del faldone, all'interno il materiale corrispondeva, ma non appartenevano a nessuna serie. E quindi si è deciso di tenerli separati in una serie separata, ma di provare a ricostruire all'interno di questi faldoni, perché comunque la documentazione più o meno è sempre la stessa dei 120, di tenere la stessa serie dei 120 anche all'interno di questi faldoni. All'interno, come vedete, è presente materiale audio, video o informatico, che appunto dovrà essere riversato in un formato conservabile, lo stato di conservazione e la storia archivistica, nella quale si è voluto fare un sunto tra come le carte si sono sviluppate all'interno del processo e quando e come sono state passate ad esempio la Corte di Appello, versate in archivio di Stato. La storia processuale, che riprende in parte la scheda che prima ha presentato Ilaria, con le sentenze linkate. Voi da questa scheda potete andare a riguardare ogni sentenza. C'è l'hyperlink a ogni sentenza pubblicata sul sito che vi ho fatto vedere. I giudici coinvolti, in questo caso IPM, Grazia Pradella e Massimo Meroni, le note perché, come sanno gli archivisti, all'interno del materiale si può trovare qualunque cosa. e qui sono stati trovati dei reperti di altri attentati. È presente un reperto relativo all'attentato alla stazione di Verona del 28 agosto 1970 e un reperto relativo all'ordigno ritrovato sul treno Bari-Trieste dell'8 agosto 1969. Questo tra l'altro conservato in una scatola di legno coperta dalla muffa. E la bibliografia che è stata utilizzata per arrivare a questo tipo di informazioni. E poi il lavoro vero e proprio. nella quale è stato inventariato tutto il materiale presente all'interno di questi faldoni. Noi avevamo questo all'inizio. Basta. Null'altro. Faldone 1, faldoni 2, faldoni 3. Nient'altro. Quando non hai 120, appunto, non c'è un'altra. Magari in una fase dell'istruttoria. O la sentenza. Va a trovare la sentenza all'interno. Tra l'altro sentenza che non è stata scansita, non è all'interno di quelle 120, quindi era a latere. E soprattutto, adesso ne aprirò uno a caso, uno dei problemi maggiori del digitale è che noi abbiamo il faldone da pagina 1 a pagina 661. Tutto il faldone è stato scansito da pagina 1 a pagina 661. Anche volendo, andare a ricercare qualcosa all'interno di un faldone diventa irreale, diventa complicatissimo. Ci ho provato. È complicato. Bisogna per forza partire dal cartaceo. Così non si può lavorare. Anche perché, appunto, gli archivisti lo sanno, il problema è che qui manca la tridimensionalità del faldone. Non c'è la divisione in fascicoli. Cosa che è fondamentale. Infatti si è deciso di fare un inventario partendo dal fascicolo. Molto semplice, con misure cautelari, fascicoli personali, con di fianco quella che è la cartolazione, perché alcune cartelle sono state cartolate e quindi noi abbiamo che da pagina 1 a 35 c'è la documentazione del fascicolo personale di una certa persona e gli estremi cronologici. Il problema è appunto un altro, che quando si è partiti i primi 25 faldoni hanno dato pochi problemi, a parte qualche fascicolo spostato. Dal 25 in avanti si è scatenato l'inferno. Materiale non fascicolato. Quindi era segnato all'interno di un indice una fascicolatura che non era presente. materiale in disordine. Quindi c'erano relazioni che partivano a pagina 35, continuavano a pagina 18 e finivano a pagina 312. Quelle sono state tutte riordinate. Quindi adesso il materiale è in ordine. Però rimane un problema. Il problema è che però sono già state digitalizzate. E a questo punto il faldone digitalizzato non corrisponde più, non è più lo specchio di quello che è le carte, di quello che è il faldone. Quindi almeno 50 faldone andranno ridigitalizzati perché 30 più o meno non sono stati no, di più. 50 non sono stati digitalizzati più ce ne sono 30 che sono stati riordinati e quindi andranno ridigitalizzati con fascicoli in disordine, fascicoli spostati in altri faldoni. La situazione era abbastanza complicata. però si è giunti a una fine e quindi si è deciso di completare questa scheda con l'inventario. Quindi voi avete le 120 pagine fino all'ultimo faldone che è l'indice generale del PM. Come vedete in fondo ci sono le sentenze, la sentenza della corte di assise di primo grado e la sentenza della corte di assise di appello di secondo grado e in alto tutti. Si può identificare cosa c'è in ogni faldone e in ogni fascicolo. Questa è la parte fondamentale. All'interno di questa scheda ci sono ancora ovviamente ci sono delle cose che saranno modificate e dei campi che per ora non ci sono e che voi tra virgolette vedete bianchi. bianchi perché sono stati cancellati ma verranno introdotti presto. Innanzitutto come vi ho detto il registro generale è la parte fondamentale del processo perché quel numerino che vedete rimanda a un registro. All'interno di quel registro ci sono le informazioni fondamentali del processo gli imputati le sentenze i processi aggregati quello però è ancora alla procura. Se il registro della procura non sono stati versati e quindi bisognerà andare a cercare all'interno di questi registri il numero e verrà assegnato il numero di questo registro in modo che chi ha questa scheda potrà anche andare a vedere quando sarà versato in archivio quel registro che appunto è fondamentale come base di partenza. All'interno della scheda mancano anche le interviste perché come ha accennato Ilaria verranno intervistati il giudice Salvini i PM Merone Pradella l'avvocato sindicato i parenti e le vittime si lavoreranno e questi verranno caricati i link all'interno di questa scheda in modo che anche lì chi guarderà la scheda potrà arrivare a sentire dal vivo quello che è stato il processo perché noi leggiamo degli atti possiamo ipotizzare come è andata l'inchiesta ma a sentire dal vivo da chi l'ha vissuto è diverso tipo a sfuggire quel particolare che un giudice o un PM che ha partecipato può aiutare e poi ci sarà un altro campo che sono i fondi correlati perché noi abbiamo qui la scheda del PM delle carte della procura ma in archivio di stato ci sono le carte versate dal tribunale di cui verrà fatta una scheda identica ma ovviamente riportata a quelle carte con 57 faldoni 21 raccoglitori 4 scatole e l'inventario identico e sarà linkato il riferimento e sarà assegnato che c'è anche quella di documentazione come verrà assegnato il fatto che a Catanzaro c'è il materiale relativo al processo di Catanzaro quindi si potrà veramente avere uno strumento di ricerca fondamentale da cui partire qualcosa che aiuti chi si avvicinerà alla ricerca ricerca si fa sempre meno in archivio ma è fondamentale perché i documenti sono ciò che rendono reale un fatto un fatto sennò potrebbe anche in teoria non esistere sappiamo benissimo vedendo le difficoltà alla quale ci siamo trovati si è deciso con Ilaria Moroni e con il dottor Giovanni Liva di scrivere una sorta di procedimento per non più trovarci in questa situazione cioè con faldoni scansiti senza un metodo che dovrebbe partire in teoria dall'archivio del tribunale con un riordino precedente alla scansione perché se no ci si trova se no fra dieci anni ci ritroviamo con Tangentopoli uguale peggio ok peggio valoreia conferma peggio e quindi è stato scritto questo metodo anche esso pubblicato sul portale è un suggerimento è una proposta operativa metodologica è stato fatto un convegno in archivio del Stato a Milano il 13 nella quale ci si è confrontati con tutti i direttori e gli archivi di Stato che sono alle prese con la medesima problematica e quindi si è pensato di provare a proporre una soluzione è una nostra proposta ovviamente siamo aperti a suggerimenti a migliorie anzi meglio più teste ci lavorano meglio è perché senza il gruppo di lavoro che è stato creato dall'inizio e portato avanti non arrivavamo a questo e quindi appunto ovviamente ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questo gruppo di lavoro qui appunto sono presenti il direttore compagnoni il dottor Liva Umberto Valloreia il dottor Vitali che anche lui ci ha seguito e suggerito modifiche per questa scheda e che ha insistito per averla tra virgolette pubblicata ma pubblichiamola il dottor Savoia anche lui partecipa alle riunioni Francesco Biscione giornalista veramente siamo tanti senza questo gruppo di lavoro non si andava nessuna parte quindi le proposte ci sono lavoriamoci perché se no non si andava non si andava non si andava